lancia y1003 turbodiesel multijet e 16 valvole 75 cavalli perciò auto per neopatentati con una chicca e cambio automatico questa vettura ovviamente fa parte della categoria usato economico però come potete notare tenuta più che bene bel bagagliaio sedili sdoppiabili guardate gli interni come sono tenuti molto belli degli interni veramente e in condizioni eccellenti autoradio collettore cd mp3 molto bello anche il volante in pelle sedile di guida regolabile in altezza la vettura ha percorso poco più di 99 mila chilometri anno 2008 unico proprietario ed è già revisionata riassumendo mille tre turbodiesel per neopatentati con cambio automatico vettura introvabile unico proprietario anno 2008 chilometri 99 mila ed è tra l'usato economico perciò il prezzo è veramente un'ottima sorpresa contattateci per sapere la disponibilità della vettura per venire a vederla e provarla